Roma di giorno è fantasiosa, ma di notte prende un colore diverso e anche una temperatura diversa perché dove ci spostiamo un cocktail bar ghiacciato ma ma assai particolare, pronti per vedere Ice Club Roma. Dai bar segreti ai bar ghiacciati, preparatevi a passare una serata diversa. Innanzitutto benvenuti nel Regno Polare, vi immergerete in un'atmosfera irreale circondati da 40 tonnellate di ghiaccio ad una temperatura di 5 gradi sotto zero, sorseggiando gelidi e prelibati bicchieri di vodka nel posto più freddo e originale della capitale. L'Ice Club Roma è infatti l'unico locale d'Italia fatto interamente di ghiaccio, dalle sedie al bancone del bar, dalle pareti ai bicchieri. Un posto perfetto dove trascorrere una serata fuori dal comune e senza limiti di tempo e di permanenza. Piano piano vi racconto step dopo step cosa succede dall'ingresso all'uscita. Al varco verrete subito informati su quello che vi aspetta all'interno e vi verrà consegnato un piccolo kit composto da una mantellina termica e un paio di guanti. Ma vista la temperatura molto rigida nella quale verrete catapultati, piccolo consiglio, copritevi bene già di vostro. Nel biglietto d'ingresso, il cui costo si aggira sui livelli di un ingresso in discoteca, è compreso quindi l'equipaggiamento più una consumazione a vostra scelta. Superate le due porte ermetiche che vi separano dall'entrata, accederete in una sorta di mega frigorifero in cui tutto, 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 tutto è fatto di ghiaccio. Vi ci vorrà di fatto un po' di tempo per abituarvi al gelo del locale, ma una volta presa confidenza con l'ambiente, il freddo non risulterà mai troppo piccante. Ma torniamo a noi. All'interno il locale offre alla fantasia spunti su un aroma mai vista. Statue ghiacciate, led colorati e musica di ogni genere per rendere l'atmosfera calda ma al punto giusto. Pensate, ogni sei mesi vengono direttamente dall'Inghilterra degli architetti specializzati per ricostruire l'interno del locale scolpendo delle vere e proprie opere d'arte. Per quanto riguarda i drink, pregevole di ottima qualità l'assortimento di vodka, sia liscia che aromatizzata, che in cocktail. E cosa molto particolare, tutte le bevande sono servite in bicchieri conici di ghiaccio. Insomma, l'Ice Club rappresenta un cocktail bar unico a Roma, luogo speciale per passare una serata diversa dal solito e da poter raccontare e ricordare, sia in coppia che con gli amici. Ci troviamo nell'Ice Club di Roma, un luogo ghiacciato che nasce come, a gusto? Nasce dall'idea di ricreare un ambiente polare in una città storica come Roma. Diciamo, il primo Ice Bar nasce nel 2002 a Stoccolma in affiancamento all'Ice Hotel e poi successivamente, dopo un viaggio di uno dei soci, è nata l'idea di ricrearlo qui a Roma. Dunque nel 2005 nasce prima come associazione privata e poi al pubblico aperto da lì ancora siamo qua. Allestimento Antica Roma, che è quello che i turisti italiani non si aspettano, Roma Antica, abbiamo ricreato quello che contraddistingue la città, tutto in ghiaccio. Assolutamente d'accordo, perché fuori ci sono dei monumenti, ma dentro ce ne sono di altri e voi avete delle statue colorate. Raccontami qualcosa su di esse, soprattutto, sono bacinella dopo bacinella costruite da voi? Contrariamente alle altre strutture del nord Europa, che si trovano soprattutto nella parte della Pogna svedese, insomma qui il ghiaccio non può essere attento dai fiumi e dai blocchi di ghiaccio naturali che si creano durante il stagione invernale, ma viene praticamente realizzato artificialmente con dei macchinari. Lo produciamo sia in parte, sia per grossi stock, ci appoggiamo a aziende mondiali che le producono soprattutto nel nord Europa o comunque sia in Europa centrale. Le sculture, il ghiaccio e il bar di per sé viene allestito ciclicamente, con dei restyling durante i periodi dell'anno e viene assemblato da un team di scultori che provengono un po' da tutta Europa. Wow, quindi ci sono delle persone che vengono qui appositamente e voi gli date un'impronta su quello che volete vedere e loro la realizzano. Esatto, noi sono artisti professionisti, dunque sono in grado di realizzare tutto tondo, basso rilevi, incisioni, come vedete, sono professionisti, si mettono dentro, con la loro tutina da sci, tanta volontà e tanta vodka, riescono a creare questa atmosfera che è magica, comunque un'esperienza fuori dal normale. E l'idea di mettere invece in neon tutte queste luci colorate? È questo un po' per ricreare un po' quell'atmosfera dell'aurora boreale che uno magari si aspetta, che è quello che può vedere magari regandosi su queste altre strutture che nascono vicino al circolo vorale, che dunque danno la magia delle notti cangianti con i colori. E poi dà anche un po' di profondità al ghiaccio, perché comunque sì, essendo sempre trasparente, magari il gioco della luce che cambia o altro dà un po' più di profondità. Oggi nuove tecniche permettono anche di lavorare in bicromia o con sfondi, però qui non è proprio possibile come struttura. Questo ricordiamo che siamo in un palazzo del 1700, dunque è stato difficile adattare questa struttura, diciamo, alle geometrie di un palazzo antico. Pertanto abbiamo lavorato espandendo il ghiaccio completamente verso le mura isolate, dunque le altre strutture invece prevedono tecnologie anche differenti. Però piano piano cambiamo anche noi, abbiamo iniziato a fare scritte diverse, sfondi, effetto bronzio. Piano piano anche noi ci innoviamo, perché la cosa importante è dare un prodotto di qualità e un'esperienza unica. È vero, date un'esperienza unica e soprattutto i turisti rimangono ghiacciati. A che temperature siamo? Siamo a meno 5 gradi, è la media della stanza. Tutti i prodotti che somministriamo, ovviamente, stando all'interno del locale H24, sono somministrati a meno 5 gradi. Qualcuno, abbiamo qualche problema che gela, infatti lavoriamo di termos, al contrario. Cioè, teniamo i prodotti in caldo invece che in fresco. Principalmente abbiamo i meshi da vodka, che sono le nostre specialità. Ne abbiamo di vodka proveniente da tutto il mondo, con qualche eccellenza, ovviamente, tra le più rinomate. Siamo specializzati anche in vodka aromatizzate, che sono la nostra specialità. Collaboriamo con due aziende che fanno sciroppi bio. Dunque creiamo dei prodotti che, diciamo, si avvicinano un po' ai gusti internazionali, ma soprattutto danno un'esperienza sensoriale anche piacevole, perché sono gusti che non si trovano da altre parti. Ecco, prima parlavi anche della struttura. Quali sono stati i primi problemi che avete riscontrato? Beh, sicuramente creare un ambiente così freddo in una struttura storica ha già un po' gli impianti tecnologici un po' su misura. E poi l'isolamento è comunque nel tempo è stato sempre migliorato e maggiorato, però ecco, ultimamente le alte temperature estive fanno soffrire tutti gli impianti, ma non solo noi. Anche chi ha strutture come la nostra, pensate ai celli refrigerati di supermercati o di altre strutture che comunque lavorano alla catena del freddo. Dunque ghiaccio alimentare e via discorrendo. D'estate e d'inverno ci sono le stesse temperature? Perché magari i turisti vengono qui d'inverno e dicono... All'interno sì, diciamo lo sbalzo termico, ovviamente nel periodo estivo è un po' più alto, però avendo una reception climatizzata, diciamo, tra una chiacchierata e il fatto della vestizione e svestizione della mantella permettono di acclimatarsi e di non subire grossi shock. Comunque poi le persone vengono informate, magari quelle più delicate si accomodano un attimo la reception aspettando con noi chiacchierando fin quando è. Però diciamo non ci sono grossi problemi, chi viene diciamo è preparato. Ecco, sono sempre benvenuti tutti quanti, nessuno escluso, anche gli anziani possono godere della... Sì sì, assolutamente, abbiamo una fascia completamente trasversale. Diciamo abbiamo anche bambini, famiglie, abbiamo baby cape, dunque dal pomeriggio dall'apertura fino alle 20.30 possono accedere liberamente, invece dopo le 21 il club è aperto ai soli maggiorenni. Abbiamo anche un'offerta di soft drink e bevande analcoliche in modo da accontentare tutti, anche chi magari non beve alcol. E delle feste le fare qui dentro e poi in che modo? Allora, in realtà stiamo ultimamente lavorando un po' con il team building aziendali. Abbiamo spesso aziende che o vogliono creare un'esperienza premio per un team di lavoro o per uno staff che ha concluso un progetto. Abbiamo ultimamente anche studi di avvocati o di commercialisti che magari organizzano dopo serata, soprattutto a ridosso delle festività o estive o comunque sia natalizie. Ci piace questa idea perché ci stiamo sempre di più legando al concetto di esperienza, che è quello che ci piace oltre ad essere un nice bar, vodka bar, dunque un bar di intrattenimento, volevamo anche essere qualcosa di esperienziale, questo ci piace. E la musica qui però non manca mai. Fate serate con DJ Set? DJ Set l'abbiamo provato sinceramente, però è tosta. Ma rimane congelato. È tosta veramente, abbiamo delle playlist che cambiano su richiesta di qualche cliente o delle feste aziendali, loro portano le loro playlist, però ecco diciamo è più un lounge, puntiamo più su intrattenimento, ci piace più che la gente si conosca, spesso abbiamo persone che si incontrano qui e poi vanno a finire la sera da un'altra parte, abbiamo avuto proposte in matrimonio, gente che è tornata con i bambini, dunque è simpatico questa cosa. I barman sono quasi tutti internazionali, parlano diverse lingue, pertanto diciamo è facile socializzare, questo ci piace, non chiudiamo più tardissimo, chiudiamo a luna attualmente, dunque spesso capita che la gente poi vada dopo di noi in altri locali a concludere la serata in compagnia. La clientela è variegata o maggiormente turistica? Allora, come stavo dicendo prima, siamo diventati molto trasversali, dunque abbiamo sia anziani che vengono, sia giovani con le famiglie, sia minorenni indipendenti, comunque sopra i 14 anni, turisti, italiani e non, lavorando nel periodo settimanale, predilige il weekend, ovviamente, come tutti. Per il periodo estivo, ovviamente, qualcuno va al mare, dunque gli italiani si vede un po' meno, i turisti magari riempiono di più la città, anche se ultimamente si stanno svuotando sempre meno le grosse city, sia europee che italiane, pertanto anche c'è una presenza costante un po' di entrambi. Ovviamente i picchi di flusso alti sono quando tutta Roma è piena, dunque l'altra stagione corrisponde a un periodo un po' più di lavoro per noi, la bassa ovviamente è un periodo più, diciamo, di recessione, diciamo, di afflusso. Ecco, la pandemia ha inflitto un duro colpo a settori come questo e adesso anche la guerra, perché ha portato indirettamente dei costi che per voi, per sostenere tutto questo, sono diventati infattibili. Come vi state muovendo? Attualmente, come in pandemia, abbiamo attento ai fondi che sono stati erogati, che adesso stiamo già ripagando, i flussi sono diminuiti, siamo rimasti chiusi per molto tempo, anche con restrizioni dovute al numero delle persone in sala, agli accessi, all'obbio Green Pass e via di scorrendo. Anche se qui è tutto freddo, è un po' difficile che... Ma, diciamo, poi non erano quelli problemi, diciamo, altre priorità. E adesso la guerra ha portato sicuramente a un incremento alto dei costi di gestione, speriamo che tutto questo si risolva più presto, perché sono costi che per noi diventano pesanti, dunque tolgono tutti i margini e consiglio l'azienda comunque a rindebitarsi un'altra volta se non dovessero migliorare. Purtroppo questo è la realtà di tante realtà, soprattutto a manifatturiero o comunque sia realtà come questo, che sono energivore e cerchiamo di essere virtuosi, migliorando l'efficienza dei macchinari, isolamenti, però comunque sia ne abbiamo bisogno. Certo. C'è un motto di questa azienda, di questo locale, che fa sorridere tutti quanti, ma che riguarda voi, esclusivamente voi? Ne abbiamo due, forse il primo è quello che nessuno mai è morto di caldo, che è uno dei nostri battuti iniziali. La seconda è quella che tira un po' sul morale, perché sblocca un po' anche più timidi, che è in vodka veritas, sulla scia del vino veritas. Avendo la vodka come mescita principale abbiamo ricreato questo slogan, che abbiamo anche inciso nelle pareti. E allora, noi vogliamo assaggiare i vostri drink, chi troveremo il bar? Trovate David questa sera, vi potrà consigliare ampiamente su diversi drink, ne abbiamo vastissime scelte, spaziamo dai più dolci agli agrumati, per la clientela un po' più esigente anche nei gusti, soprattutto gli asiatici a cui piacciono un po' di contrasti, e poi arriviamo anche ai classici visitati, che sicuramente non muoiono mai. E come socio, quale preferisci della drink list? Allora, la drink list, forse i primi tre sono i più gettonati, infatti li abbiamo anche segnalati con dei simboli, proprio per consigliare un'esperienza anche multitensoriale, legata anche al fatto del bicchiere di ghiaccio, che fa parte oltre al freddo, alla scenografia, è proprio quel momento di contatto fisico, è la sensazione dei ghiacci sulle labbra che è piacevole comunque. E allora, andiamo direttamente dal tuo barman. Grazie Augusto. A te, grazie. A te, grazie. E tra le tante statue che troviamo qui ghiacciate, troviamo anche Davide. Davide, sei ibernato? Ancora non sono ghiacciato. Allora, raccontaci un po', cosa propone il bar di Ice Club Roma? Allora, il concetto nostro, la maggior parte è un vodka bar, quindi abbiamo una lista di cocktail che la maggior parte sono a base di vodka e la maggior parte sono nostre creazioni. Cioè? Nostre creazioni, quindi una roba esclusiva, solo noi. Firmata e soprattutto, cosa ci mettete dietro? Allora, abbiamo vari tipi di vodka aromatizzata, e con questi facciamo il mix buoni, dolci, non troppo dolci, qualsiasi cosa. Serve qualcosa di veramente forte però qui per scaldare il cliente. E per questo c'è un vodka bar. Ah, perché la scelta? Perché tanti ricori, per esempio, semplice birra o vino, si congelano. La roba come whisky, rum, devono essere a temperatura ambiente. Perché qualcosa, qualche whisky buono, per esempio, che metti qui al frigorifero, è per degusto. Certo. Poi dietro al bar vedo che avete vaniglia, peperoncino, mango, lampolini. Ah, questi sono i nostri shottini speciali. Sempre vodka, sempre aromatizzate, però si chiama un gourmet edition. Che serviamo in queste provette proprio così. Ok, e quello è già un cocktail pronto? Questo è un shottino. Uno shottino, la degustare e passa la paura, oltre che il freddo? Anche. Per stare bene, quali consigli, qual è il gusto che ti riscalda un pochino di più? Ha senso. Ha senso? Andiamo su forte, andiamo veramente. Proprio così. L'altro invece, più dolce, più fruttate, alcuni tipo mango, lampone, vaniglia, chi piace vaniglia. La maggior parte della clientela è straniero o italiano? Straniero. E loro, il palato straniero? Allora, cerchiamo ad esempio la Francia. Cosa preferisci? Pesca. Pesca. Pesce in arctic, che è vodka la pesca con le man soda, spritz, beh, roba classica. Certo. E ad esempio, se ti dicessi qui in inglese? In inglese? In inglese? Gin. Una roba, diciamo, a chi piace gin, tutto questo perché tecnicamente è vodka con il gusto di gin. Ok, e se io ti chiedessi di farmi vedere il vostro bicchiere, sono per tutti uguali? Sì. Per qualsiasi tipo di drink? Sì, per qualsiasi cocktail. usiamo il bicchiere di ghiaccio, per i sciottini, se non parliamo di questi, diciamo, bicchiere classico, plastico. E allora, mostraci il passion arti e... Per i francesi, passion arti. In generale, i nostri best sellers ci hanno queste friccette bianche. E allora, mostraci due best sellers. Ah, bene. Sì, ovviamente sono dei scatti straight. Questa è vodka, e su questo non c'è, si sbaglia. Vodka al melone, succo di ananas, che non era te, no, vabbè, teniamo in questi... così non si congelano. Contenitori al colgimento. Un po' di lemon soda, ok, e un altro, facciamo un cool emotion, vodka alla fragola. Vodka al frutti di bosco e le manzana. E solitamente voi accompagnate questi cocktail a qualche cibo congelato oppure no? Con cibo qui... Con cibo qui è un po' difficile. Anche patatine... Diventano troppo... Allora, eccoci qua. Cool emotion è uno dei più venduti, perché a gente, a chi piace fragola, qualcosina fruttata, eh. Loro prendono questo. Frozen Sun, diciamo, questo locale era nato con questo drink. Quindi questo è proprio il primo cocktail che ha inventato il nostro capo e ha cominciato con questo. E quindi questo rispecchia la tradizione di questo ice club? Diciamo così. E allora proviamolo. Prima che mi parte il braccio, sentiamo se mi resta attaccata la bocca. È buonissimo. Complimenti. Proviamo anche quest'altro, vediamo qual è meglio. Io esco qui, non posso uscire un po' con là perché... Ah! Sarà il ghiaccio, ma qui c'è la magia. Complimenti. Portogli. Allora. Ciasi. Bona gente. Ciasi. Abbiamo la grinta giusta adesso dopo questi due cocktail per andare a fare una visita notturna in giro per Roma. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao! Io ce l'ho mai troppo fatto!